buongiorno oggi ci troviamo all'aceno per andare su monte raya magra saliremo quasi fino a 1700 metri qui siamo a 1100 metri sentiero numero 5 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info non ci aspettavamo la neve il nostro corso gratuito www.mesmerism.info musica musica dopo essere arrivati in cima a raya magra rifugio canadese abbiamo fatto un piccolo spuntino adesso stiamo chiudendo il cerchio ad anello scendendo per l'ex pista nordica che ci porta fino in fondo alla seggiovia musica 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 musica